Con mister Vincenzo Pacino, al lavoro per preparare queste ultime quattro partite molto importanti per il proseguo della stagione, sicuramente entusiasmo e morale alto? Sicuramente, noi ci stiamo preparando perché queste ultime quattro partite significano tantissimo per noi, perché vogliamo cercare di fare il massimo. Siamo là a tre punti dalla prima, siamo a nove punti dalla terza, quindi dobbiamo cercare di dare il massimo per vedere poi alla fine quelle che riusciamo a tirare di buono. Tante partite, ormai si è quasi concluso questo campionato, possiamo tracciare un piccolo bilancio. Tra tante difficoltà siete riusciti a fare davvero qualcosa di straordinario, perché con una rosa comunque non larghissima, quasi sempre bel gioco, quasi sempre risultati, anche partite davvero molto belle. Credo che il bilancio personale, anche nell'aver lavorato sempre a contatto con questi ragazzi, è ampiamente positivo, comunque vada. Ma io ho detto ripetutamente, ho detto più volte, che noi siamo, secondo me, la squadra che è stata la più continua di questo campionato. Mi dispiace solo non avere potuto giocare le partite fondamentali con la squadra non al completo, perché l'unico ramarco che ho è non avere potuto affrontare Corliano e Sampiase con la formazione tipo. Perché noi, ho sempre detto che siamo in tutto, 11, 12 grandi, tra virgolette, e poi tutti under. Quindi quando mi viene a mancare uno come Catalano, uno come Salandria, in partite fondamentali, qualcosa non va. Però noi siamo una squadra di categoria, abbiamo fatto tante vittorie, solo due pareggi e due sconfitte. Siamo a tre punti dalla prima ingrassifica, che secondo me doveva ammazzare il campionato e grazie a noi ancora non sta festeggiando. Perché se no, vedendo le due rose al confronto non c'è proprio competizione. Però noi siamo stati bravi ad essere là, siamo a tre punti. Penso che nemmeno loro se l'aspettavano. Quindi noi battaglieremo fino alla fine e sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i miei ragazzi. Perché, ripeto, con tante difficoltà, tutte le partite giocate fuori casa. Non abbiamo un campo dove fare allenamento, siamo da una volta a una parte, una volta a un'altra. Quindi penso che siamo i vincitori morali del campionato. Salandria e Zangaro che passano da una parte all'altra durante le partite, sortite offensive dei difensori centrali, tanto fraseggio, tanta palla a terra. Molte volte noi ci siamo incontrati e abbiamo condiviso stagioni in situazioni quasi disperate. Molte volte c'è stato anche il lieto fine. Credo che questa volta sia stata anche una crescita collettiva del tuo gioco. Una squadra veramente eccezionale. Li posso mettere dove voglio, che mi giocano senza problemi. Ho incontrato quest'anno questi ragazzi veramente professionisti e bravi, come ripetuto prima Zangaro e Salandria. Ma non solo loro, sono tutti, ma veramente tutti. Dai ragazzi che gli posso fare fare il centro commissario centrale all'attaccante. Passano tranquillamente, durante una partita possiamo cambiare più sistemi di gioco per questo motivo. Perché due ragazzi sono veramente orgogliosi di loro perché gli puoi dire quello che vogliono e che fanno quello che gli chiedo io e poi alla fine lo fanno. Quindi quest'anno sono veramente contento. E ancora non è finita, però ad oggi sono veramente soddisfatto di loro. Conclusione, auguri di buona Pasqua, eccetera, eccetera. Catalano però qualche punzecchiata al Napoli l'ha buttata. Ha detto che Sarri gioca bene, non vince, ha fatto qualche parallelismo. Lui invece con Allegri è pronto a festeggiare anche forse una Coppa. Il tuo augurio per la Champions League della Juve credo che sia doveroso a questo punto. Gli auguri di Pasqua secondo me sono banali. Gli auguri di Pasqua li facciamo a tutti quanti perché è giusto fare gli auguri di Pasqua a tutti quanti. Poi a Catalano e a tutti i tifosi della Juventus gli faccio gli auguri di Pasqua ma non posso fare gli auguri di una buona vittoria della Champions. Anche perché ci vogliono rubare il campionato a Napoli, quindi speriamo. Perché noi siamo come... ecco la mia squadra è come il Napoli, giocano sempre gli stessi. Se ne manca qualcuno possiamo soffrire con le piccole, quindi noi ci vediamo tantissimo nel Napoli. Noi siamo 11 come il Napoli, quindi forza Napoli e forza Olimpia con la sananza. E auguri a tutti. E auguri a tutti.